Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi dalla quattenticessima edizione della Festa di Roma e sono con Giulio Base. Ciao Giulio. Buongiorno, buongiorno. Allora Giulio, tu sei qua per presentare il tuo ultimo film, Bar Giuseppe, sezione riflessi. Io comincerei dal titolo, perché Bar Giuseppe vuol dire tante cose. Cioè, immediatamente uno può pensare a un bar, può anche pensare che questo bar sia di una persona che si chiama Giuseppe. Tutte cose vere, ma c'è molto altro. Sì, sì è vero. Se vai all'etimologia della parola proprio più antica, Bar Giuseppe nell'aramaico e quindi la lingua in cui sono scritti i Vangeli e possiamo credo svelare che la scintilla del film è dalla vicenda evangelica di Giuseppe e quindi Maria, appunto Bar Giuseppe nell'aramaico si tradisce Bar Giuseppe. Tant'è vero che Gesù nell'Evangeli è definito, nella lingua originale dell'Evangeli, Joshua Bar Giuseppe. Quindi in quella, diciamo, traduzione mi sono divertito, o meglio, mi sono ispirato a farlo diventare in italiano Bar Giuseppe che, come giustamente sottolineato, è sia un bar che quindi sempre una congrega di persone variegate, no? Parlando del cinema più moderno, quando uno vuole descrivere un luogo un po' folle dove c'è di tutto, dice, ma che è il bar di Guerra Stellari, no? Che è quel bar folle dove appaiono tutti. Ecco, i bar sono tutti un po' luoghi dove c'è mescolanza. Giocando su questa, diciamo, affinità linguistica ho messo dentro, credo e spero, una varietà appunto di personaggi, di età, di razze, di religione, di ceto sociale, di culture e l'incontro soprattutto tra queste due culture, cioè la nostra e quella africana. Infatti il film essenzialmente è un incontro tra due persone che sembrano apparentemente molto lontane. è una interpretata da Ivano Marescotti che è il proprietario del bar e l'altra è una ragazza appunto di origine africana che arriva in questo bar e fra queste due persone succede qualcosa. Sì, succede la cosa più bella che può succedere secondo me nella vita, cioè comprendere l'altro, si comprendono e poi si amano, si amano di un amore puro, che è una cosa un po' controcorrente di questi tempi in cui pare che la sessualità che ci viene continuamente proposta quando non sbattuta sia la principale attrattiva del mondo e invece a mio giudizio non lo è e quindi anche diciamo questo è affine alla vicenda di Maria ma c'è soprattutto una comprensione appunto nelle diversità, come dicevi tu, sia razziali sia generazionali perché uno è un uomo di più di 70 e la ragazza ne ha 18, di classe, di ceto, si superano tanti ostacoli che è quello che mi piace che il film possa dire, tant'è vero che poi il Vangelo sta molto 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 indietro quando facevo leggere il copione ai collaboratori, ecco questa metafora non veniva colta immediatamente mi chiedevano ma di chi è questo bambino visto che loro non hanno... e questo mi faceva molto piacere vuol dire che non è proprio così smaccatamente chiara né, lungi da me, aver voluto fare un film canonico o catechista, assolutamente no volevo usare quella che a mio giudizio è la più grande storia d'amore di sempre anche perché è centrale nella storia dell'umanità basti pensare che siamo nel 2019 sia qui ma sia in Cina c'è un anno segnato dalla nascita di un uomo quindi questo è parte di tutti e prima di questa nascita come può quella famiglia di 2000 anni fa dire qualcosa agli uomini oggi? Qualcosa lo dice sicuramente perché il fulcro del film secondo me è l'accettazione dell'altro insomma lo hai appena detto, lo ribadisco anch'io nel senso che il film si svolge oggi in un momento particolare della nostra storia della storia dell'umanità in cui ci sono persone che fuggono da guerre da stati di miseria e che noi spesso non siamo capaci di accettare di accettare proprio come esseri umani invece il tuo film ci dà questa lezione cioè che accettare significa non fare domande non farsi domande nell'accettare l'altro non porsi domande insomma perché domande invece ce le dobbiamo porre esattamente rispetto a questo credo che questo fosse il tuo obiettivo sì sì assolutamente io sono un figlio di migranti ovviamente la mia vicenda è quella dei miei è meno lottuosa di attraversare un oceano eccetera però io credo che gli esiliati ieri e oggi subiscono più o meno le stesse umiliazioni cioè dove andare a vivere come vivere, come mangiare, con quale lavoro ecco il film parla di questo no? è anche molto un film sul lavoro Giuseppe è un lavoratore, lavora, offre lavoro a Bichira fa offerte di lavoro, lo vediamo sempre che lavora mi piace ricordare che il primo maggio è la festa di San Giuseppe lavoratore prima ancora del... cioè sul calendario è così frutto sempre della nostra cultura imbevuta ovviamente di cristianità è certamente così quindi vedo invece il degenerare di questi problemi di questi esiliati, migranti chiamiamoli come vogliamo e non siamo capaci di aprire braccia ma non è il... il mio non vuole essere un giudizio politico vuole appunto farsi domande come dicevi tu e questo bambino che nasce voglio citarti perché te quando hai visto il film hai detto una cosa bellissima che mi ha... che quasi è andata oltre me cioè il bambino che aspettano Giuseppe e Maria che non sappiamo di chi è, da dove venga c'è questo Rashomon nel film, no? questo mistero e tu mi hai detto il bambino è di tutti ecco ho fatto quella frase da allora mia il bambino è di tutti come fai a non accogliere tuo figlio visto che è anche tuo grazie hai trovato sulla tua strada un attore straordinario perché credo che difficilmente avresti potuto trovare un interprete così intenso anche giusto, distaccato perché era facile eccedere in un ruolo così invece riesce a essere come dire, riesce a essere vicino ai problemi vicino ai sentimenti di tutti e allo stesso tempo però mantiene questo suo distacco questo equilibrio questa saggezza proprio da padre sì, veramente per me Ivano ha fatto un'interpretazione sublime è ovvio che dicendolo io sono parte in causa e verrebbe da pensare e forse è giusto pensarlo che diciamo oste com'è il vino e probabilmente c'è di questo vero è che però e questo invece è assolutamente sincero io non mi sono mai trovato così bene con nessun attore e comunque nel bene e nel male ho 25 titoli su queste deboli spallucce e mi sono trovato super bene soprattutto perché si è affidato ma non perché io sia bravo perché comunque il regista buono o cattivo che sia ha un'idea e va seguita lo dico quando faccio l'attore per me il regista è Deus Ex Machina cioè sono un colore nel suo pennello e cerco di spalmarmi al meglio di come lui voglia e questo lui l'ha accettato ha fatto esattamente cosa io avevo in mente e avevo in mente quella laconicità di Giuseppe quell'essere statua quell'essere muto perché poi appunto anche da lì sono partito Giuseppe nei Vangeli viene nominato nove volte e non dice mai nulla mai personaggio secondo me di grande esemplarità sempre un passo indietro a Maria Giuseppe sta sempre là e non dice nulla in un'epoca come la nostra il frastuono il riverberarsi di parole spesso vuote questo suo silenzio è una grandissima lezione e Ivano in questa difficoltà di dover fare un ruolo quasi tutto sulle sue spalle parlando pochissimo ecco ha fatto una cosa a mio giudizio piuttosto unica anche a mio giudizio mi pare di capire sì grazie Giulio Base sono Angela Prudenzi e questo è Fred Festival Insider a Grazie a tutti